Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. L'incubo si è trasformato in realtà per Constance Coenz, un'anziana signora di una casa di riposo a Lincoln, Nebraska, dichiarata morta lunedì dagli infermieri della struttura. Il suo corpo era stato trasferito a un'impresa di pompe funebri, dove, due ore dopo, un dipendente si è accorto che il suo torace si muoveva. Incredibilmente, Constance era ancora viva. La polizia, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono tornate critiche come prima dell'incidente. La polizia locale ha avviato un'indagine per assicurarsi che non ci sia stato alcun comportamento negligente da parte degli operatori della casa di riposo. Il vice capo della polizia Ushin ha dichiarato che in 31 anni di carriera non ha mai visto un caso simile. Anche l'ufficio dello sceriffo della contea di Lancaster è coinvolto nell'inchiesta, che finora non ha trovato responsabili. Le autorità stanno valutando le procedure della casa di riposo per capire se sia necessario aggiornare i protocolli per prevenire simili incidenti in futuro.